In un campo io sono l'assenza di campo. Questo è sempre opportuno. Dunque sono, io sono, ciò che manca. Quando cammino divido l'aria e sempre l'aria si fa avanti per riempire gli spazi che il mio corpo occupava. Tutti abbiamo delle ragioni per muoverci. Io mi muovo per tenere assieme le cose. Grazie. 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 Grazie.